Buongiorno, un'altra cosa che mi è rimasta dentro della presentazione fatta ufficialmente dal Milanieri della nostra squadra Milan Futuro, della squadra Under 23 rossonera, è il senso di unità, cioè la nuova squadra si raduna l'8 luglio esattamente come la prima squadra allenata da Paolo Fonseca. Io qui respiro unità di intenti, respiro team, respiro lavoro condiviso, magari altrove avrebbe dato fastidio questa cosa, però insomma siccome altrove non c'è la squadra Under 23 non si sarà il dominus posto al problema, scherzo, faccio qualche battuta nel calcio, nel calcio ci può anche stare nel rispetto di tutte le posizioni, di tutte le sensibilità, però al di là, tornando serio, al di là di tutto mi piace questa idea che ci si raduna insieme, si inizia a lavorare insieme e si respirano i primi profumi della stagione insieme. È positivo per i due allenatori, è positivo per i ragazzi, è positivo per tutti, che è percorso, è percorso condiviso e quindi questa è una buona cosa. Volevo stare con voi un attimo sul cosiddetto mercato in uscita. Si parla di molti nostri giocatori in uscita. Noi abbiamo fatto dunque i due giocatori di maggior valore, di maggior quotazione economica che avevamo, tra virgolette, lo dico nel massimo rispetto dei nostri ragazzi, però nella vulgata in gergo si usa questo termine. In esubero, la scorsa stagione, ossia Charles de Ketlare e Alexis Alemeckers, li abbiamo dati in prestito bene, cioè li abbiamo dati in prestito a società e a progetti che non ne hanno disperso il valore, ma lo hanno, se possibile, rafforzato e ha cresciuto, tant'è che Charles de Ketlare è stato riscattato da un progetto e da un club vincente come l'Atalanta. Mentre Alexis Alemeckers avrebbe meritato totalmente e ampiamente il riscatto, ma siccome al Bologna hanno cambiato allenatore, l'allenatore che lo ha avuto al Bologna la scorsa stagione lo vorrebbe anche nella sua nuova squadra, la Juventus. Quindi le due scelte di fondo della scorsa estate le abbiamo centrate. Poi vedremo che cosa accadrà sul fronte Salmeckers, la Juventus è interessata, l'Atalanta è interessata, anche alcuni club di Premier League sono interessati. La quotazione è importante perché Salmeckers è stato un uomo decisivo per lo scudetto del Milan nel 2022 ed è stato uno fra i protagonisti e uomini decisivi della storica qualificazione Champions League ottenuta dal Bologna nel 2024. Quindi un giocatore di questo tipo ha la sua quotazione adeguata. Però si parla molto anche di altri nostri giocatori. Leggo che a Genova ad esempio si parla di Lorenzo Colombo in funzione Sampdoria perché alla Sampdoria gioca un giovane difensore centrale classe 2006 Giovanni Leoni che piace molto alle grandi squadre, all'Inter, al Milan, al Napoli, al Bayern Monaco. Quindi vedremo quello che accadrà sul fronte di Lollo Colombo. Poi si parla molto e bene di Daniel Maldini che ha fatto un notevoli passi in avanti, passi di crescita, guizzi e giocate importanti la scorsa stagione, prima a Empoli e poi a Monza. Quindi vuol dire che insomma i giocatori del Milan mediamente crescono e a targhe alterne si parla di interessamenti esteri anche per quanto riguarda i giocatori di prima squadra attualmente in rosa, il Newcastle ad esempio. Si parla di Fichto Mori, si parla di Malik Chao. È da diversi giorni che leggo il nome del Newcastle, ma il Newcastle noi l'abbiamo visto la scorsa stagione come opera. Si presenta, fa l'offerta, sente la controproposta, si trova un accordo, stringe la mano e va. Quando del Newcastle per giorni, giorni e si continua a parlare, io distingo sempre i fatti e gli scenari, si continua a parlare senza che succedano fatti, sono un po' perplesso. Da un lato so perfettamente che ogni estate di calcio mercato, dentro questo nostro ciclo, noi prima facevamo fatica a piazzare i nostri, a piazzare, uso un altro termine che non vorrei fosse irrispettoso nei confronti dei giocatori, a piazzare i nostri giocatori. Che so, alla fine della stagione 2017-2018, alla fine della stagione 2018-2019, i vari Biglia, i vari Zapata, i vari altri, insomma, era difficile trovare collocazioni. Oggi invece, all'epoca eri tu che dovevi trovare collocazioni, oggi sei tu che devi proteggere i tuoi, perché sei dentro un ciclo diverso, un momento diverso. Quindi vedremo quello che accadrà, vedremo se il Newcastle oggi non si presenta, non chiude, non fa, perché deve prima sistemare le cose del proprio bilancio, del proprio fair play finanziario entro il 30 giugno e poi magari si presenterà o meno. Però il calcio oggi non funziona più a fatti, funziona a scenari, perché attenzione, quando ci sono degli scenari dovete sempre diffidare, perché quegli scenari magari sono tattici, sia in entrata che in uscita, magari sono articoli o scenari costruiti per forzare un certo tipo di situazione, magari sì, magari no, magari mezzo e mezzo. Gli scenari può esserci dietro qualsiasi cosa dietro uno scenario. Sui fatti invece c'è poco da discutere, i fatti però sono o le PEC con l'offerta economica, oppure l'acquisto del biglietto aereo, il viaggio è il dirigente che si presenta in città per trattare. I fatti sono solo questi ed i fatti non ce ne sono. Però resta il fatto che i tuoi giocatori ogni estate calamitano l'attenzione, se non altro a livello mediatico. Su Ismail Ben Nasser mi sembra che oggi sia stata troncata con decisione la pista tra virgolette araba, nel senso che Enzo Raio l'ha fatto sapere, ha fatto trapelare Enzo Raio nel procuratore di Ben Nasser con cui il Milan ha dialogato costruttivamente e positivamente per l'ultimo rinnovo a inizio 2023, per l'ultimo prolungamento, quindi sembra fortemente in calo questo tipo di ipotesi, del resto insomma quell'araba non è soltanto una pista oggi, una pista dorata, ma è un'esperienza che in molti hanno fatto e quindi si sa di che cosa si tratta, si capisce bene da parte di ciascun giocatore quando è il momento eventualmente di... e non sembra essere questo quello di Ben Nasser. Poi naturalmente discorsi diversi riguardano Fodeballot-Turé e Rivoco-Righi, sempre nel rispetto di questi professionisti, però sono discorsi un po' diversi insomma. Sono giocatori che non hanno fatto particolarmente bene al Milan e non hanno fatto particolarmente bene nemmeno dove sono andati in prestito, quindi si tratta in maniera seria da una parte e dall'altra di affrontare la questione. Più seria sarà la questione, più costruttiva e rispettosa sarà la questione, meglio sarà evidentemente per tutti. Quindi questo è un po' il quadro complessivo. Noi oggi siamo nella condizione di autofinanziare il nostro mercato, perché ci siamo qualificati in Champions League e perché De Ketlar è stato riscattato. Ci saranno altri introiti? Lo vedremo. Resta il fatto che il Milan è molto impegnato, passo dopo passo, a fare le migliori cose possibili. Milan, se tutti gli incastri andassero dove desideriamo noi, sarebbe un'ottima cosa. Vedremo. Nel calcio mercato devi essere sempre pronto a predisporre e progettare ottime cose e poi vedere cosa succede. Noi stiamo lavorando non soltanto per vedere cosa succede, ma per fare in modo che succedano le cose giuste. Speriamo bene, a più tardi.